Sono state raccolte circa 150 firme in poche ore durante il banchetto di sabato scorso nel centro storico di Fano per la petizione popolare sulla legittima difesa. L'obiettivo di Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale è quello di invitare Governo e Parlamento a rivedere la legge sancita all'articolo 52 del codice penale e attuare così misure in grado di contrastare il fenomeno dei furti contro la proprietà privata. Il partito dunque continua a battersi per veder garantito il diritto di ogni cittadino di difendersi. Chiediamo allo Stato di dare tutte le sicurezze ai cittadini italiani, chiediamo allo Stato di tutelare le forze di polizia che troppo spesso sono abbandonate in mezzo a una strada per difendere gli italiani, chiediamo allo Stato di intraprendere un percorso coraggioso e di andare verso la legittima difesa. Troppe volte questo Stato abbandona gli italiani bisognosi di sicurezza. L'ultimo esempio è proprio sui giornali di oggi dove vediamo due carabinieri rinviati a giudizio per aver fatto un arresto troppo cruento, troppo violento per qualcuno. C'è una manifestazione appunto che si svolgerà nei primi di marzo? Sì, Giorgia Meloni ha lanciato questa petizione nazionale per la legittima difesa e ha lanciato anche una manifestazione nazionale il 7 marzo a Venezia per la sicurezza, per mandare a casa questo governo svuota carceri, questo governo che ci lascia in giro i delinquenti e mette le vittime come carnefici e noi torneremo in piazza il 7 marzo a livello nazionale per stare dalla parte degli italiani. La raccolta firme proseguirà a Fano anche sabato prossimo. Sì, tanti si sono fermati sabato scorso, hanno raccolto l'invito a firmare per questa petizione che Fratelli d'Italia ha lanciato anche su tutto il territorio nazionale e ringraziamo anzi i cittadini che sono venuti a firmare questa nostra petizione. Rilanciamo anche l'invito a tornare sabato prossimo sempre dalle 10 alle 13 in corso Matteotti lì sotto il Palazzo dei Capuccini. Volete garantire sia la sicurezza per i cittadini che maggiore giustizia? Che maggiore giustizia anche perché non è che noi crediamo nel far west dove tutti quanti dobbiamo avere la pistola e sparare. In una casa se ti vengono dei malviventi non è che c'è un vademmecon per la difesa, può accadere che nella difesa accada un fatto delituoso ma per questo non è che la vittima deve passare da carnefice perché non è così.